L'ex campione italiano direttante Con i cittadini, Fabio Turra! 11 vittorie, 6 per K.O. Dopo 31 anni ha riportato un titolo italiano a Trieste Adesso è il turno di far accomodare in sala Il campione italiano dei massimi leggeri Paolo Ferrara! A lato l'ho, a lato l'ho! Il campione italiano dei massimi leggeri Paolo Ferrara! A lato l'ho, a lato l'ho! A lato l'ho, a lato l'ho, a lato l'ho! A lato l'ho, a lato l'ho! A lato l'ho, a lato l'ho, a lato l'ho! A lato l'ho, a lato l'ho, a lato l'ho! A lato l'ho, a lato l'ho, a lato l'ho, a lato l'ho! A lato l'ho, a lato l'ho! A lato l'ho, a lato l'ho, a lato l'ho, a lato l'ho! A lato l'ho, a lato l'ho, a lato l'ho, a lato l'ho! Vai Fabio! Vai Fabio! grazie 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 faccia fare brutti colpi vai 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 vio fascinating che brutto anche il momento che disegnante mi fa un cazzo brutissimo da vedere, porco dio i miei cagassi mi prega solo per questo la torna è stata un po' e la torna è stata un po' si è stato un po' Grazie a tutti. 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 Du... Du... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du... Du... Du hast... Du hast... Du hast... Du... 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 ... Du... Du hast... Du hast... ... ... Du hast... Du hast... ... Du hast... Du hast... You... ... держ... Du hast... Su... Du hast... Du hast... Du host... Du hast... Du hast... du hast... Grazie a tutti